... Prima di passare al World Café invito l'orto di Eolo. Sei Eolo in persona? Vieni Eolo! Allora, oggi l'incontro abbiamo il piacere di presentarvi delle iniziative virtuose già attive sul territorio, in modo che anche queste piccole o grandi esperienze possono essere di ispirazione sul proseguo del cammino. Vieni, mi mette in difficoltà, non mai parlare. Vabbè, con la testa doloressa. Ok. Allora, buonasera a tutti. Sono contento di essere qui, perché se sono in ritardo e niente, volevo presentare la mia attività, che cosa ho fatto io nella mia vita. Vi ricollego a quello che ha detto il... Mi spiace di non aver sentito dall'inizio la... Diciamo che io ho iniziato la mia carriera, mi sono lavorato all'università, ho iniziato la mia carriera economia e commercio, ho detto, c'è un lavoro, cosa faccio? E sono trovato un bel lavoro in banca, ho detto, ah bello, bel lavoro, siamo sicuro, che mi porterà diritto alla pensione. Il lavoro, diciamo, era anche abbastanza interessante, anche se dentro io avevo un fuoco, volevo fare qualcosa o qualcos'altro. E niente, diciamo che a un certo punto ho detto, boh, adesso se non provo adesso non provo più. L'idea era quello di creare un'azienda agricola e produrre, diciamo, per la realtà locale qualcosa che non è che ci fosse molto, diciamo, io ho iniziato a produrre ortaggi biologici qua nel Bielese da 15 anni fa. Diciamo che ero quasi una mosca bianca perché non c'era quasi nessuno, c'erano già qualche azienda... Però diciamo che l'offerta che c'era nel mercato era molto bassa, quindi ho detto, perché no, è una cosa che reputavo fosse una cosa interessante, diciamo. Quindi l'ho lasciato, mollato tutto, eccetera, eccetera, e mi sono creato questa piccola realtà gentale che ormai, diciamo, vado avanti da 15 anni e diciamo tra alte e basse, eccetera, eccetera, mi sento anch'io come il faligname di cui parlavo, chiaramente i problemi sono tanti, il lavoro è abbastanza, diciamo, complicato, qui siamo in Piemonte, diciamo, capisci anche perché, diciamo, in realtà orticole, ortofrutticole qua nel Bielese non ce ne sono tante, il motivo è facile, però diciamo che bene o male è un qualcosa che fa sì che mi sento più vivo e, diciamo, spesso devo combattere con cose più grandi di me, però diciamo che è qualcosa che mi rende, diciamo, soddisfatto e niente. Diciamo che tanti amici con cui ho passato la mia gioventù, tanti si sono laureati, tanti si sono andati a lavorare all'estero, tanti lavorano per queste cosiddette multinazionali, a volte mi arrabbio con loro, mi dico, ma misera, eri dieci volte più intelligente di me, è possibile più di andare a fare il signor sì presso un'azienda multinazionale? Non dirmi solo per i soldi, cioè per io, e niente, comunque, niente, la mia piccola battaglia la, diciamo, la combatto in questa maniera, non sempre facile, spero di riuscire a continuare così, spero di avere a un certo punto degli aiuti, spero che anche il Bielese diventi anche una realtà più aperta, perché diciamo che il Bielese è un po' fatto da persone tanto laboriose, però non siamo capaci a collaborare tra di noi, quello forse è quello che pensano, dovremmo imparare da realtà, come in Emilia Romagna, forse loro di spirito sono un pochettino più aperti, noi invece siamo sempre lì a controllare il nostro orticello, e forse dovremmo, non lo so, aprirci un po' di più. Diciamo, non so bene cos'altro volete sapere, vale, nei cinque minuti. Cos'è che c'è di pronto nell'orto in questo periodo? In questo periodo poca roba purtroppo, purtroppo, te lo dico, perché se no non sarebbe possibile, il problema è che nel mio lavoro ormai non puoi fare a meno di utilizzare tunnel o serre, purtroppo il pieno palacampo nel Bielese sta diventando qualcosa di veramente difficile, quindi diciamo, adesso abbiamo tutte le serre fredde con valeriana, spinaci, cose, diciamo, cose vertiche che possono crescere a bassa temperatura, niente di più, costine, roba e tene. Poi diciamo, adesso noi stiamo già lavorando per la primavera, poi a marzo ci sarà qualcosina di più, però diciamo che la stagione nel Bielese è corta, la primavera è un osso duro, non ci mette sempre dura prova, inizia a piovere, non sai quando inizia, ma non sai quando ci mette. E quindi, diciamo, poi anche nel 2014 ho iniziato, poi non ho mai smesso più. Quindi era dicembre, quindi diciamo, eravamo lì, diciamo, abbiamo lavorato. La prima volta che ho lavorato il terreno leggermente asciutto era ieri, e dopo il grande evento di questi giorni, di solito noi agosto, settembre, ottobre, novembre, lavoriamo bene, perché diciamo, quest'anno, anzi l'anno scorso, è stato un vero disastro, quindi vabbè, tra noi andiamo avanti, e niente, tiriamo sulle maniche, ma tutto lì. Grazie.